Signor Leonardo, che ho saputo dal Ministero dei Trasporti in persona, che le strade dell'Odigiano sono asfaltate. Sono asfaltate? Senti poi, Otello, o ripeti esattamente quello che lui ha detto, altrimenti ne prendiamo un altro. Io ricorderò... Poi non mettermi le mani addosso, eh! Tieni giù le mani! Dai, non fate così, ragazzi! Su, stai a muovere le mani! Non alzare la voce! Per piacere! Di pure. Cosa? Ho detto di pure. Ha detto di pure? Eh, ho capito! Ha capito? Io sono responsabile del restauro, della manutenzione e di tutta la parte tecnica di questo garage. Che per il 51% è mio. E l'altro 51% è mio. Cosicché io e te saremo proprietari al 102% di questo garage. Esatto. Vedi che non capisci un tubo di amministrazione. Perché io mi intendo della parte tecnica, del restauro e... E della manutenzione! E quindi quando io metto il veto sull'uscita di una macchina, è un veto. E allora, vuoi vedere che adesso io prendo un martello e ti spacco tutto il 51% della macchina? Lo vuoi vedere? Dai, dai ragazzi, non fatti così. Vuoi un momento, eh? Tu che quota hai nella società? Nessuna. Va bene, allora puoi rimanere. Senti, quello che voglio dirti è questo. Io posso anche fare come dici tu. Il mio è un piccolissimo particolare. Che questa macchina di qui non esce. E c'era bisogno di mettermi le mani addosso! Guarda la voce!